e bello a tutti ragazzi sono Sam in questo nuovo video oggi facciamo una challenge che praticamente dobbiamo dobbiamo fare kill solamente con con l'assalto quindi niente pistole niente cecchini niente pompa solo assalti ragazzi tutte le altre armi le dobbiamo lasciare raga comunque voglio questo stile con lo questo qua che mi piace questo raga comunque mi sono messo questa camera di caricamento fighissima che scuola meglio raga io di skin vorrei avere anche il cavaliere nero anche raga e anche l'iconic l'iconic vabbè non fa niente allora raga andiamo a suborghi ok andiamo a suborghi raga sono livello 107 vabbè raga quindi ieri sono arrivato a livello anzi sabato sono esattito un po' di livello ieri sono arrivato a livello 107 fra un po' arrivo a livello 110 mi immaginate arrivo in questo video vabbè comunque dobbiamo trovare solo assalti queste squadre sono un bel giocatore non ce l'ho cantata non fa niente non fa niente raga dai scendiamo allora raga spero di trovare subito un assalto se non lo trovo non posso prendere l'arma le cure valgono però ovviamente raga le cure si se no è possibile proprio le cure valgono mi sa che quello è un assalto fammi mettere bene no quello è un pompa devo trovare un assalto qualcos'altro non va bene ok raga so che è un assalto perfetto che sono stato proprio fortunato raga visto che è l'unica arma che è l'unica arma che posso rodenare mi vengono qua poi opp questo fa mi sono da full anche che fortuna raga mi faccio questo c'è spuglio full raga comunque aspettate un attimo che devo vedere una cosa ok ok vi faccio lo scudone stavo facendo una cosa vabbè mi faccio c'è lo scudone ok raga perfetto sono full e poi sono pronti a combattere i pompa mi hanno detto che non le posso prendere un altro assalto mi riprendo anche questo anche il medit e pure che ovviamente però se no raga non possiamo proprio giocare è impossibile proprio il colpo assalto un altro assalto raga un altro assalto me lo prendo anche questo questo anche questo è full forse non so perché è stato all'oscuro no vabbè questa non armi forza cosa cosa ah ho fatto una missione non abbiamo dato un cavolo vabbè dopo questo nemico raga ah dobbiamo tornare da Tarana si dobbiamo uccidere questo nemico ok ho fatto ho fatto da Kilo con il coso qua come si chiama con l'assalto prendo tutto lo scudo vabbè ok dobbiamo andare da Tarana adesso raga la missione no raga ho sentito no raga che colpo devo essere del pompo non mi serve tanto non le che le prendo che la metta da quello ok arrivo a 108 raga comunque mi prende no raga non mi vuole colpi pompo mi prende da Tarana da Sato ok raga sta andando benissimo è già la partita ok raga andiamo adesso andiamo a foresta andiamo a foresta raga ok andiamo a foresta ho tre potili d'assalto raga me li lascio tutti e tre perché mi servono se la finisco e non ce ne ho una prendo l'altra ovviamente perché devo fare qui solamente per l'assalto la tempesta vabbè siamo nella zona sicura io la chiamo zona sicura raga non c'è niente perché il disambulo infatti la chiamo non è sicura perché non voglio dire safe perché safe è la tempesta allora facciamo peschiamo un pesce con questo non ho trovato una mazza vabbè un pesce piccolo le delle ammizioni vabbè raga allora andiamo ok mancano solamente 191 metri dai sono cose riguanti allora andiamo a trovare i nemici così faccio le kill raga con gli assalti purtroppo anche se trovarmi leggendari in senso pompa leggendari mi traietta e poi non ne posso prendere perché sono se ti guarda l'assalto tipo lo scarsi per poi mi fucile d'assalto la foresta sta prendendo fuoco vabbè non c'è qualcuno raga che sta bisogno la foresta io credo di sì voglio togliere il ping ah che l'ho tolto stanno morendo gli albi vabbè non c'è che cosa non ho forse finito devo andare con la torre raga perché vuoi vedere se spocco jones no il 188 perché tutti i jones tranne quello il 188 raga tranne quello il 188 ti devo lasciare punto vediamo questo cos'è e le munizioni ok ok io tengo in mano con lo blu raga la fa fa ok devo seguirla se vuole se vuole sbloccare jones oh no no sai che c'è c'è un amico devo sblocarmi raga e ora non è che scomposola fa falla ne devo andare perché se forse quella della buglia non so vabbè c'è anche forest ok sono scappato comunque quello che c'è la buglia quel raz una stile di raz è un po' forte raga perché il potere vabbè con il raggio non so come si chiama vabbè raga ho 100 di scu no 100 di shield no e un 99 di vita vabbè ma c'è la carne la cosa sono full anche se non trovergo ok raga questa partita sta andando benissimo cambia l'agnolo quando si faccia così veloce mentre ok raga perfetto ma c'è 9 player raga 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 sono già da 9 minuti che siamo in un video sono di nuovo suborghi raga non ci credo raga è troppo buffo è troppo divertente che sono di nuovo suborghi sono tornato indietro vabbè ho sentito sparare raga ho sentito anche voi sicuro infatti stanno sparando raga c'è pure il simbolo eccolo l'ho trovato ci stanno combattendo quindi sono ah è morto c'è là quello là devo sconfuggere quello là allora con l'assalto sempre raga adesso pure la posso prendere raga comunque però le kill sono con l'arco guarda no con l'assalto scusate raga oh no nemico fatti uccidere è l'assassina della guli no sta curando ops ok raga l'ho ucciso raga l'ho ucciso con il kosuo con l'assalto raga credo sono troppo forte ok raga guarda mi vuole lo scar questo più di così non può andare bene comunque raga non posso prendere perché sento sparire eccolo ok raga ho killato no raga non posso prendere mi rendono i colpi vabbè io quasi li lascio però se no però raga mi sto spento sparare qualche nemico mi vuole uccidere lo sento raga c'è un nemico a me lo sento raga eccolo manca poco ed è morto raga ho ucciso tutti gli nemici con con l'assalto incredibile raga è super epico tutti quelli ci hanno il pompa no io raga l'ho ucciso con gli assalti c'è un nemico c'è un nemico c'è un nemico 10 player raga incredibile sento ancora nemico incredibile sento che rompo ste ossa me le prendo adesso ne ho 4 la casetta sparare ma non vedo nessuno incredibile questo è tutto doveva quando si spara non lo so l'acca scusare se prende volare tre munici ma io mi prende la sola le munici ma non scusare non poni leña perché non poca prendiamo la strada ok ecco avevo visto la macchina la barca è buggata raga sta ballando devi usarla e dove è vero questo nemico eccolo è spawnico no raga peccato sta ballando questa partita comunque raga questo nemico sta dicendo raga stavo dicendo ma questo lo sa chi aveva e non male che l'ho ucciso secondo me stavo dicendo così però stavo avendo rispudrelato quindi sarebbe morto se avevo fatto l'ultimo sporo vabbè siamo sul fornite perfeccato trada sta caricando ok siamo pronti ballo un pochino andrea come si dice aderet metrion zintos si dice andiamo raga andiamo a brughiera siamo già una puttazione 99 raga rimasti 99 rimasti Ok raga Solo assalti Forse ne ho trovato No, quello è un assalto No, una pistola No, forse quello è un assalto No, un pompa Ok, un assalto Di lato già uno Ok raga, perfetto No, annaggia Non gli voglio colpire Pompare, tanto non mi serve No raga, non gli voglio sti colpire Raga, è inutile che le prendi Infatti perché no Perché È inutile perché tanto Devo farsi la kill con l'assalto E secondo me è inutile che le prendi Ok Vediamo se c'è qualcuno Qualche gente Perché già vedo il simbolo dei passi Quindi qualcuno ci deve essere Eccolo infatti Ecco, questo è un assalto Ma io l'ho killato No, ho sbagliato Potremmo che c'era qualche altro colpo No raga, a me mi servono pure Raga, è incredibile Vabbè Andiamo in lobby È certo con l'arco quello Perché venga, ok Comunque la parte di prima è stata ecca Ragazzi Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like Ativa la campanellina E al prossimo video Ciao raga Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.